La Toscana riorganizza il proprio servizio regionale aumentando i volumi di traffico, gli slot orari e i servizi sull'infrastruttura ferroviaria. Il presidente della regione Enrico Rossi e l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile hanno siglato l'accordo quadro che consentirà nei prossimi anni di sviluppare il traffico ferroviario regionale rendendolo più rispondente alle esigenze di mobilità dei territori. Saranno potenziati i collegamenti nell'area metropolitana di Firenze e le linee Pistoia-Lucca, Firenze-Pissa e Firenze-Siena. Nessuna linea avrà riduzioni di servizi e la riprogrammazione avverrà progressivamente con l'entrata in funzione delle nuove infrastrutture ferroviarie. Con la maggior parte degli interventi previsti nel nodo fiorentino, dove si concentra quasi la metà della popolazione toscana. L'accordo avrà la durata di cinque anni rinnovabile per altri cinque e punta a far crescere sempre di più il numero degli utilizzatori del treno, potenziando e migliorando il servizio ferroviario regionale.